Il progetto c'è, le planimetrie sono state già disegnate, il tipo di organizzazione è stato già bilanciato. La Casa della Salute di Ceccano-Ceprano si farà e avrà una sua fisionomia molto chiara. A confermarlo è stato il nuovo direttore del distretto sanitario, Francesco Carrano. Ha illustrato il lavoro svolto in questi mesi dai referenti ai quali Isabella Mastrobuono aveva affidato lo studio delle case della salute di Ceccano-Ceprano. Occuperà l'ex ospedale Santa Maria della Pietà di Ceccano e opererà in stretto legame con lo Spaziani di Frosinone. Ad esempio, tutte le visite programmate verranno organizzate a Ceccano e da qui, se emergerà che occorre un approfondimento o un intervento, verrà prenotato direttamente svolto a Frosinone. Insomma, il paziente uscirà da Ceccano visitato e con l'approfondimento prenotato lo Spaziani se occorre. Anche a Ceccano ci saranno i posti letto per i pazienti a bassa intensità, 20 in tutto. L'esempio scolastico è quello dell'anziano con la bronchite cronica, che oggi viene assistito in ospedale, con la casa della salute, non andrà ad occupare un letto allo Spaziani, lasciandolo per i casi urgenti e gravi, ma verrà assistito a Ceccano dagli infermieri laureati e dai medici di famiglia. Anche a Ceccano, infatti, verrà attuato il metodo sperimentato a Ponte Corvo. Una serie di medici chiuderà il proprio ambulatorio e riceverà i pazienti direttamente al Santa Maria della Pietà, a turno con gli altri colleghi. In questo modo i pazienti comuni troveranno sempre un medico per visitarli, per fare la ricetta. I ricoverati a bassa intensità avranno sempre infermieri e medico a portata di mano. A Ceccano verranno potenziati poi rapporti con il campus biomedico di Roma, in particolare per l'endocrinologia e le malattie metaboliche. Nella Casa della Salute verrà realizzato un servizio apposito. Ma c'è di più. È prevista la ristrutturazione del vecchio padiglione Mosconi, che oggi è ridotto a un rudere. L'intenzione è quella di mettere l'ala a disposizione dei privati e con i loro soldi finanziare i lavori per completare l'ospedale. I privati verrebbero autorizzati a mettere un asilo nido, un'area culturale, soprattutto un supermarket specializzato nei prodotti per i diabetici e per coloro i quali hanno patologie che impongono un'alimentazione particolare. In questo modo si conta di recuperare i 6 milioni di euro che mancano all'appello. Per realizzare i lavori ne servono 11, ma la regione ne finanzierà solo 5. L'apertura è prevista entro il 2017. Grazie. Grazie.